...della Triscon, i favori per Polipoggetti in chiusura, scatta subito Priscilla B al comando nei confronti di Okayama RR, all'esterno veloce anche Ovitamia U, Push Up Valley, ma è Priscilla B che conquista la testa in poche battute e ora per corsi esterni Ovitamia, mentre Oleandro Obrò è rimasto incollato alla schiena di... Priscilla B dopo 200 metri svelti in 14.1 trova... Numero 9 Old Fashion Club, scolificato... Intanto Okayama RR mentre ha sbagliato Old Fashion Club, quindi se ne va uno dei cavalli comunque attesi, 29.3 il quarto iniziale di Priscilla B in seconda posizione Okayama RR, mentre all'esterno cerca di farsi luce. Il numero 6 Push Up Valley che è rimasto scoperta, fin dalle battute iniziali, mentre terza ruota per One Way che avanza al passaggio davanti alle tribune, a largo c'è anche Orfeo Jet, mentre... La progressione anche di Polipo Jet che è il più atteso al centro gruppo, rimane in terza corsia One Way senza riuscire a avvicinare la testa, 59.7 di 800 km che se ne va in uno 15.3 con Priscilla B leader su Okayama RR. Dalle retrovie ora cerca di muovere Polipo Jet quando siamo a 500 dalla conclusione, anticipato però da One Way che prova ancora in terza corsia, ma c'è anche Okayama che scatta. Numero 8 Oregon Nick, scolificato... Priscilla B che sembra in calo a 300 dalla conclusione, superato da Okayama RR, Okayama con One Way a largo, poi Polipo Jet che non riesce a intervenire, ci prova anche Play Dancer a centro pista, completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, si presenta Okayama in vantaggio, ultimi 100 di gara. Okayama RR in testa, 50 conclusivi nel finale, c'è lo spunto però di Play Dancer sul traguardo, Play Dancer probabilmente riesce a piegare Okayama RR con al terzo Pedro Almodovar che finisce bene a largo di tutti. 1.15 e mezzo, il raguaglio conclusivo, la vittoria per Play Dancer Giuseppe Portio Junior quando sembrava dura andare a riprendere Okayama RR che era la grossa sorpresa della corsa, estremo outsider che è stato appizzicato proprio in prossimità del palo, andiamo a rivedere le immagini per confermare l'impressione che abbiamo avuto sul traguardo. E sì, il numero 15 che riesce a passare, terzo posto per il numero 13 di Pedro Almodovar, poi abbiamo visto ancora al quinto posto ci sembra Polipo Jet, numero 11, mentre andiamo a riapprezzare ancora l'arrivo con Play Dancer che fornisce veramente uno spunto notevole.